La dodicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli amiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in un 325 paesi. Il premio è Eccellenza dell'Anno Innovazione Leadership Car Management e il premio va a Fleet Support. Eccolo, per essere una solution provider leader nel settore automotive italiano, per essere la migliore società di consulenza per la gestione delle quote aziendali e del mobility management, per la capacità di anticipare con soluzioni innovative le esigenze di mercato e di erogare i servizi tailor made di alto livello. Complimenti! Siamo in compagnia di Simone Costantini, CEO di Fleet Support. Benvenuto. Grazie, buonasera. Questa sera siete stati premiati per il secondo anno consecutivo come eccellenza nel settore del car management. Ecco, come commenta questo riconoscimento? Allora, sicuramente è per noi un motivo di orgoglio, perché comunque vuol dire che corona è un altro anno di attività svolta all'interno della nostra azienda, volta alla ricerca costante di innovazione e di miglioramento in un settore dove pare facile parlare di quattro ruote, due ruote, tre ruote, ma dove l'efficienza è sempre la soluzione migliore che bisogna percorrere in maniera costante. Quindi è un motivo d'orgoglio. Ecco, la sua azienda è leader nel mercato italiano della gestione dei parchi auto aziendali. Oggi, quali sono i prodotti e servizi che interessano maggiormente i manager? Attualmente la nostra è un'impresa che si pone sul mercato con software e con servizi. Sicuramente nel mercato della gestione dei parchi auto il software ha una valenza molto importante perché è lo strumento di base per gestire coerentemente i veicoli che uno ha e che utilizza correntemente per svolgere le proprie attività. A fianco a questo ovviamente ci deve essere un corollario di servizi che permettano di efficientare e migliorare i processi organizzativi e gestionali che correntemente vengono svolte all'interno delle imprese. Ecco, oggi si parla molto di sostenibilità e di tecnologia. Le chiedo come vi ponete di fronte alla sostenibilità e come vedete la tecnologia del futuro nel vostro settore? Come detto noi ci occupiamo di gestione di parchi auto fondamentalmente in aziende medio-grandi. Questo vuol dire aziende che hanno dai 150 veicoli a salire. In Italia sono molte le imprese come queste e ad oggi se prendiamo a riferimento il settore del noleggio a lungo termine perché la maggior parte di queste imprese prendono veicoli a lungo termine parliamo di circa 1.200.000 auto che circolano ogni giorno sul nostro territorio. L'individuazione della soluzione migliore per la riduzione delle emissioni delle CO2 e fondamentalmente il monitoraggio costante dell'ottenimento dei risultati sono alla base di quello che noi stiamo portando avanti già dal 2021-2022 ma che poi nel 2023 troverà pieno impiego perché usciremo sul mercato proprio con piattaforme che permettano di certificare e riuscire ad ottenere certificati bianchi per i risultati di riduzione della CO2 che le imprese hanno. Quali sono gli obiettivi che vi siete posti per il 2023? Allora sicuramente mantenere la posizione che attualmente ha la nostra azienda quindi fondamentalmente riuscire a mantenere il livello di servizio così come oggi lo eroghiamo cercando come detto prima sempre di migliorare ed efficientare la nostra attività. In più il 2023 è l'anno in cui porteremo sul mercato di massa un tool per gestire i veicoli nelle flotte medio-piccole quindi tutte quelle che hanno da 2, 3, 4, 5 macchine fino a 50 perché è un settore nel quale oggi non c'è presidio da parte di nessuno il software non esistono tarati per questi tipi di imprese e anche loro contribuiscono alle emissioni di CO2 siccome la sostenibilità è per noi il life motive ormai aziendale siccome le auto e l'abbiamo visto tutti quanti nel periodo di pandemia come il clima delle città è migliorato fondamentalmente con l'assenza della circolazione dei mezzi vogliamo riuscire a supportare tutte le imprese in questo obiettivo di riduzione della CO2.